Abbiamo cambiato il nostro assetto di telecronisti, abbiamo chiesto a tutti i telecronisti dell'A di andare a commentare la B per alzare il livello sia tecnico che emozionale della serie retta. E abbiamo incluso la serie B, per seguire la serie B abbiamo dato un seguito giornaliero tramite Scaspro24, l'indito a seguire il Campoteatro di Giorno a 19 che fa il giro dei campi della serie A e della serie B. Abbiamo incluso la serie B nel sito, abbiamo spinto la serie B grazie ai social, siamo sia Gianluca che diretti, sono molto social, molto social. E anche l'opportunità per me è di ricordare che abbiamo appena rilasciato una nuova versione dell'app, una nuova versione che avrà una sezione video dedicata alla serie B e che avrà tutti i video e tutte le clip dedicate al Verona a partire da sabato. Quindi questi sono i messaggi chiavi per noi, per noi la serie B è esclusiva su Sky, l'Eras Verona è ogni sabato, ogni domenica su Sky e la serie B e l'Eras Verona hanno un trattamento nell'ambito della serie cadetta uguale a tutti gli altri prodotti Sky.